Bene Ok Ok dovremmo esserci in teoria Controllo un attimo lo stato di tutto Controllo un attimo lo stato di tutto Perfetto la connessione va Allora Prima live nella casa nuova Ecco posso farvi vedere un po' come è ridotta La cameretta Su questo uno schizzo Guardate che bel muro blu geniziana Geniziana Attio sono fissato l'agenzia Allora vediamo un po' Io ho qua di incontrare Bambangaru Ok intanto abbassiamo il volume Assicuriamoci che l'audio non sparisca Bambangaru Ok intanto abbassiamo il volume Ok non sparisce C'è un po' di eco anche qua Però diciamo che Che è insomma un po' meno dell'altra parte Comunque Comunque Non gioco da un po' di tempo Spill city Quindi Torniamoci un po' Poi andremo a vedere qualche altra mappa Non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Perché? Perché siete così inattivi? Perché siete così inattivi? Che? Che? Che sì Che? Che? Che prose? Che 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 ormai sono diventato un verbo bravo quindi non mi importa più poi bucce se c'ho nostalgia ci ritorno però nella top 100 non ci sarò mai appena faranno una cosa strana una cosa strana per la prima volta live ads nella casa nuova intanto buongiorno che è arrivato vedo che ci sono due spettatori ma è cosa strana lo so dovrete farci l'abitudine perché d'ora in poi le live ads e i video saranno sempre qui magari non vedrete più lo sfondo blu però le live ads saranno sempre così e anche i video magari con un green screen dietro però però più o meno la location è sempre la stessa bisogna abituarsi minecraft a 209 vediamo un po vediamo un po questo è rarissimo se riesco a farmi provare se riesco a farmi dare un stevolo io qua si fa festa io mi farò scammare qua per favore qua 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 in che sto qua insisto Perchè, perchè non posso fare il trade con questo? Perchè, perchè non posso fare l'exporto? 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 Non ci vuole niente Basta, basta così Va bene che è tardi, però non c'è nessuno 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 Ho adorato la vittoria su Fall Guys Ma non l'ho vinta Ci ho fatto prendere dall'ansia E comunque c'era un altro bravo E quindi E quindi Non ci sono riuscito Però Però se volete allenarvi su Exxon di Fall Guys Perchè, ci sono le persone per... Per voi Cavolo No, non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Inveglia Corso Passo Ci ho fatta Poi Ci ho fatta Viola C'era 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 non è un bug non è un bug che cosa vuoi essere un calo del cavolo c'è qualcuno che mi sta aspettando no non ce l'ho fatta sono stanco questo qua non mi piace già mi sta antipatica ni sofia 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 che se non dava what perchè ciao Angela Alaimo sei nuova? sei nuova per caso? nome 07 se volete entrare a giocare con me in roblox potete comunque farlo comodamente farlo finalmente dormo per la prima volta qua dormo per la prima volta qua nella nella nuova camera no non è che 0,9 no va bene chi ha degli 0,9 sono bravi cioè ci sono degli 0,9 bravi parliamo degli 0,8 più che altro non degli 0,9 cioè senza offesa ma ci sono più cioè la generazione dei 0,9 e quella dei 0,8 sono peggiore di 0,8 a mio parere io con gli 0,9 mi sono sempre trovato bene gli 0,8 questo è pessimo urca cadonna ciò punfierli siete nuovi? siete nuovi? siete nuovi? non siete nuovi? facciamo saltarsi a casa no non si facciamo saltarsi a caso è tipo un mese che ti seguo a poco comunque si mi sono trasferito alla fine alla fine mi sono trasferito se vedevi gli altri video c'era ovviamente un'altra location un'altra postazione aspettate un attimo si qui il wifi c'è ditemi se lago ok sto cercando una strategia ok 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 eh vabbè eh vabbè eh vabbè mi so chiuso mi so chiuso che pirla comunque si che la sono a casa eh ma bisogna deve ancora vedere quando farò il tour della casa arredata ciao Domenico Iarlori o Samuel hai visto il primo video nella casa nuova prima live nella casa nuova aspettate che controllo forse sto laggando si sente? madonna 1-0-12 ha vinto io battuto da 1-0-2 eh grazie aspetta che giro un attimo ecco per ora è messa così per ora bisogna ancora arrivarla mi devono ancora arrivare i mobili insomma bisogna fare ancora un po' di lavoro se non è ancora fare un po' di fosse eccoci Ma questo è proprio possibile, no voglio rincavolarmi, se no diventerei zese. Oggi non poteva essere, ho andato a mangiare il kebab, ok, buona il kebab, per ora comunque un cibo più buono del sushi non l'ho trovata, buoni wasabi, che buono il wasabi, che buono il wasabi, che buono il wasabi, voglio essere di un giapponese, voglio essere di un giapponese, si sa! morto morto ok parliamo normalmente morto morto ok bla 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 sono morto 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 non pensate il bello più bello è questo tra tutti il numero 3 non pensate male guardate cosa sta facendo cosa sta facendo ho letto ho letto Dario per un attimo ho letto Dario no sta usando sta usando il mio trucco ah sei suicidato cavolo non pensavo così devo cercare di buttarla giù sta usando il mio trucco sta usando il mio trucco che ripreso ok che ripreso non ho letto non ho letto no comunque si riesce a guadagnare un po' di tempo però non è Dario ha vinto 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 Dario no bravissimo a un capo vinto Dario e si chiamava Dario non so qual è il tuo Dario preferito quello che ha lo stesso cognome di Ezio Greggio quello che ha lo stesso cognome di Ezio Greggio quello che ha lo stesso cognome di Ezio Greggio è il Dario migliore che esiste questo è casciato di nuovo non devo ho i giochi un po' ripetitivi non voglio mettere qualcos'altro perché c'è giochi ripetitivi questa qua è la copia di di Fall Guys i giochi sono un po' ripetitivi la cercherò su Roblox non so che non so che non so che non so che la cerchia è un po' ripetitivi non so che Dario Ok, diamante. Ok, dovrebbe girare, dovrebbe girare in teoria. Ok, dovrebbe girare, dovrebbe girare, dovrebbe girare. Ok, dovrebbe girare, dovrebbe girare, dovrebbe girare, dovrebbe girare. Ok, dovrebbe girare, dovrebbe girare, dovrebbe girare, dovrebbe girare. Però altro che quattro anni, cioè esiste da un casino di tempo, 16 dicembre 2012, siamo a febbraio, cosa c'entra? Il canale esiste dal 2012 però i video sono dal 2017. Ok l'è, adesso, già abbastanza da, ah, viva in dia. Tu è un canale di tuba e cinque anni? No, no. Nella lunga storia che un giorno vi racconterò. Sono morto, 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 L'ho aperto mio padre Morto Sono morto 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 Madonna ragazzi Quanti capelli Ho Comunque Dai Chi vuole entrare Entri Cervello lì Cervello lì Se perdo ancora una volta potete già capire che cosa accade Sono già pronto E se perdo ancora una volta Stavolta Scleromodomino Però sarà un altro farlo Al testo mio Ok Deviazione Ma Ma Il Va Far E Grazie. 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 No, Don, Don mi ha laggato. Forza, forza, forza. Forza, forza. Forza, forza. Sapevo di farcela. Accadeva una greggiata. Accadeva una greggiata. Forza, forza. 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 Forza. Forza, 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 forza. Forza. Forza, forza. Ecco, lui iscrivete al prossimo, dovrei avere l'oblustre la mia volta. Ecco, una greggiata, è arrivata una greggiata. Ecco, l'oblustre la mia volta. Ecco, l'oblustre la mia volta, è arrivata una greggiata, è arrivata una greggiata. Ecco, l'oblustre la mia volta, è arrivata una greggiata. Urca, urca, urca. C'è una banana che mi serve. Ecco, l'oblustre la mia volta, è arrivata una greggiata. Ecco, l'oblustre la mia volta, è arrivata una greggiata. Ecco, l'oblustre la mia volta. Forza. Ok. E sentire sto idiota che urla perché il polter sta crollato. Ogni volta che muoio una greggiata. è arrivata una greggiata. È un litio? è arrivata una greggiata. 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 finchè già si fa salto 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 comunque usate questa strategia prima cercate di leggere sulla prima piattaforma e poi quando avete la possibilità vi guadagnate tempo e se nel caso siete sotto guadagnate il tempo sotto cioè guadagnate sempre tempo prima fate cadere gli altri e poi guadagnate tempo per vincere in questa mappa è così vedete 16 vittorie e niente devo staccare devo staccare la live è stata un po' corta niente vi saluto tutti saluto tutti e niente intanto chiudo e niente spero che se no location vi piaccia dovrete abituarvi se no vi dispiace dovrete abituarvi e noi ci vediamo in un prossimo video in una prossima live ciao no si no si chiude no si chiude no 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 che è successo madonna no riesco a chiudere no riesco a chiudere madonna non ecco perché non finisce ragazzi c'è un problema and and